un pollo bella ragazzi sono sigma pollo e sono oggi qui a commentare le top 5 plays di padre pio of the week questo è il dono episodio sono tornati dopo un bel po di tempo con nuove clip che ci avete inviato ma passiamo subito all'eclip allora in quinta posizione abbiamo zh nt che gioca su a grace con l'intervention un trick sulla gru spara l'ancestor rented marker che sfiga marker di merda succede sempre anche a me ma siamo alla quarta posizione c'è sismic noise che gioca in underpass un altro trick switch alla pistola spara ricarica 360 si lancia lo scopo wall bang it marker across the map e poi sfasa uccidendolo sfigato sfigato bella clip comunque grandit marker te ne auguro molti altri non so perché ma ora siamo sul podio terza clip pedaglia di bronzo i miei market sono solo qui vediamo un po abbiamo aimre con che ancora lui sa grace un altro trick tutti i trick questa settimana switch alla magna all m9 come si chiama la pistola vede il nemico tentare un trick 360 salta non scopo a cross map it marker porca io avrebbe seminato in turco come di sma e sfasa coltellando l'aria e poi finisce con un bel suicidio veramente otti ottime marker ma con ottimo intendo di merda perché it marker fanno sempre cazzare tutti ma siamo insieme nella posizione con la medaglia d'argento abbiamo over emzi che gioca softgun sempre un altro trick fa girare il coltellino infiltrazione switch all intervention no scope it marker across the map poi talmente che scarso non riesce a fare neanche un quick la sfiga in quel momento l'aveva assistito proprio padre pio dall'alto che ha benedetto questo bel hit marker sfigato ma siamo alla prima clip il vincitore di questa settimana l'hit marker più sfigato la persona più sfigata di questa settimana il vincitore medaglia d'oro per ayklo sancho che gioca su a grace anche lui dopo aver fatto il nabbo con lancia granate switch subito alla classe un uomo esercito sale sulla gru eccolo è già carico è già carico lui non sa che farà un hit marker non lo sa però lui lo farà perché è qui è sul padre pio eccolo qui spara switch all rpg e un bel hit marker io avrei chiamato mosconi dall'aldirà e l'avrei fatto bestemmiare così dio cane dio cane ma proprio una cosa che neanche immaginate ma comunque passiamo al metodo comunque bene le clip devono essere registrate con dazio al pvr caricare il suo primo canale come video non è elencato e passare il link a team sigma eu ma ripetiamo la classifica che allora quinto posto zhnt quarto seismic noise terzo i'm recon secondo over amg e il primo vincito di questa settimana iflo sancho per questo episodio è tutto qui era pollo bella ragazzi grazie 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 grazie